Faccio i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta! Non ci sono toccabili. Non mi fraintendo, ma ho più paura dello Stato che della mafia. Onneto! Non sei stato! Onneto! Io sono stato, per il resto, un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, io non mi considero un pentito. Noi! Cosa situa di Cosa Nostra